30 anni suonati! Un grande concerto per festeggiare insieme i 30 anni del Naga con Patrizio Fariselli, Gaetano Liguori e Lorenzo Monguzzi Domenica 9 aprile alle 20.30 al Teatro Elfo Puccini Ingresso libero Info 349-160-3305-naga.it Ma quelli che aiutano gli stranieri e difendono i diritti di tutti Da 30 anni! Però, straganzi, mi sa che ci rivolgo!